Da maggio a settembre il Castello Svevo di Cosenza diventerà contenitore di attività culturali con un cartellone ricco di appuntamenti ideato dalla Svevo SRL e con il prezioso contributo di altre associazioni cittadine. Si parte domani sera con l'innovativo Festival delle Candele per poi spaziare con la musica di eccellenti pianisti il teatro di tradizione e il cinema d'autore con un big del cinema horror. Abbiamo pensato a un pubblico anche variegato, quindi che va dai giovani ma anche ai meno giovani. Infatti abbiamo per quanto riguarda il cinema ad esempio la presenza di Dario Argento, il maestro che presenterà il 15 di giugno e faremo un incontro con Dario Argento e più farà la mostra sugli scatti originali dei suoi film. Poi avremo nella rassegna Exit Paolo Zanarella che ha aperto il Carnevale di Venezia imprecato su una gru sulla laguna e noi la faremo esibire invece sulla torre attagonale del Castello Svevo al tramonto perché è un pianista che suona solo in un posto diverso dal classico palcoscenico. Poi avremo Rita Marco Tulli, pianista jazz molto conosciuta di fama internazionale, chiude la rassegna di Exit Stefano Bollani il 15 settembre. La stagione al castello pensata per tutti che prevede due serate dedicate all'osservazione di cielo e stelle è stata patrocinata dall'amministrazione comunale che ha saputo mettere insieme il pubblico e il privato rilanciando l'idea di Cosenza come città con una doppia valenza, turistica da una parte e sociale dall'altra. L'idea di considerare Cosenza come location per grandi eventi, eventi musicali, eventi artistici, teatrali rappresenta la volontà politica non solo di attrarre turisti e presenze dalla provincia ma anche dalla regione ma anche di dare al cittadino stesso, al cosentino, la possibilità di godere di una città viva, di una città culturalmente elevata, di una città che possa regalare anche musica, svago e intrattenimento.